A chi, maestro? Fai sentire una musica? Ha un famoso serial televisivo che sono, saranno famosi, una scuola di ballo di giovani talenti. Ebbene, noi anche oggi la nostra puntata la dedichiamo ai giovani talenti. Vi ho presentato prima 14 mini ballerine, adesso poi vi presentiamo un altro giovane talento, un cantante molto bravo, uno di quelli che proprio saranno famosi. Ed è Dario Gai che canta la notte più. Dario Gai, la notte più nera! Voglio ancora quella notte, voglio l'autostrada, notte senza sigarette, due cavalli senza viata, voglio ancora quella notte, ancora. Non voglio ancora quella nebbia che cercava di fermarci, ma la tigra è chiusa in gabbia, non voleva pure starci. Voglio ancora quella notte, ancora, ancora quella clandestinità. E il silenzio vorrei, materasso di paglia, la nostra voglia, la vecchia casa, e noi senza cosa, ancora fantasie si avverano. E sulla pelle si confondono anche le idee, per un brivido ancora, la notte più nera, ancora vorrei. L'aria fredda, la brughera, sensazione amara, mentre il giorno sta nascendo. E sotto il sole poche parole è passata quella notte, ancora, ancora. Ancora mani si allontanano, un po' magia nel dovere scappare via, per quel brivido ancora, la notte più nera. Ancora, ancora, ancora le giornate volano, volano via, invisibile nostalgia, si fa subito sera. La notte più nera, la notte più nera, ancora vorrei. La notte più nera, la notte più nera, una bellissima canzone, una bellissima voce. Grazie. Un sarà famoso, sicuramente. Speriamo, speriamo. Tu hai scritto sei canzoni, Siva Ruggeri. Sì, di questo album, che ha un titolo lunghissimo, cioè nella vita di un artista c'è sempre un disco che ha partito lo suo nome. Ho scritto sei testi insieme a Enrico Ruggeri. Ah, Enrico Ruggeri, che è un altro grande della canzone. Bene, voglio sapere una tua caratteristica. Che tu sei, come sei, romantico. Romantico, sognatore, sentimentale, nostalgico, timido. E ragazzi, volete ancora qualcosa di più? Mi pare proprio di no. Quello che vi possiamo dare noi, fare tanti auguri a questo giovane talento, è quello che vi possiamo dare. Intanto è la pubblicità e subito dopo ancora noi con piccoli e grandi fans e tutte le nostre meraviglie. Grazie, grazie Mario. Grazie a voi. Grazie a voi.